Non cambiano le modalità, lo voglio dire ai cittadini, quindi va comunque conferita la solita raccorta differenziata all'interno dei bidoni di prossimità che sono un sistema nostro che però funziona perché comunque si accontempera l'esigenza di aumentare la raccorta differenziata ma anche la comodità dei cittadini di conferire. Quello che chiedo alla cittadinanza è di stare molto attenta perché comunque occorre fare la differenziata. Con la nuova ditta abbiamo proprio chiesto che vengano fatte delle opere di sensibilizzazione nei confronti della cittadinanza e metteremo anche in campo un ulteriore sistema di controlli e ove necessario di sanzioni. L'obiettivo è quello di aumentare la percentuale di differenziata, questo si traduce in minori costi per l'amministrazione nel conferire quello che non è riciclabile? Assolutamente sì, inoltre attraverso la nuova ditta manterremo dei servizi fondamentali per la cittadinanza quali per esempio l'ecomobile, inoltre abbiamo la possibilità nelle isole ecologiche più vicine di conferire anche il verde, gli sfalci quindi e anche comunque di conferire gli ingombranti attraverso il numero verde. Come è stato gestito il passaggio tra ditte e anche dal punto di vista dell'occupazione? Noi abbiamo chiesto a tutti i comuni del bacino interessato del Tiguglio che vengano comunque mantenute le persone che oggi lavorano in DOCS Lanterna e domani in Aprica. Questo è stato garantito, è previsto dalla legge, ma noi abbiamo anche garantito che anche i servizi che vengono svolti da ditte esterne per quanto riguarda lo spazzamento, il personale che comunque questo servizio fa venga comunque mantenuto all'interno di questo appalto. Si parte dunque dal primo di febbraio, ci saranno poi altri momenti di sensibilizzazione della popolazione, incontri informativi? Con il mio assessore all'ambiente Maurizio Miglietta, il funzionario e o diciamo responsabile tecnico Michele Anidielli abbiamo proprio chiesto che vengano fatti degli incontri a tema, li faremo a Villa Sottanis in modo tale da, come abbiamo fatto quando c'è stato il cambio dalla raccolta differenziata precedente alle isole di prossimità, in modo tale che i cittadini possano ancora più comprendere attraverso anche il rapporto con le scuole che lo dico è fondamentale quindi faremo proprio anche degli incontri informativi all'interno dell'istituto scolastico comprensivo di Andrè perché da lì parte proprio anche la coscienza che la raccolta differenziata non è soltanto un qualcosa per pagare di meno ma è un qualcosa che va anche nei confronti delle future generazioni e del rispetto dell'ambiente.